Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Ecco i nostri titoli di oggi. Legittima difesa, contarina, riforma possibile deterrente alle rapine in farmacia. Farmacie rurali, capillarità e differenze regionali sotto i riflettori al convegno del Sunifar. Privacy e dati dei consumatori, un convegno fa il punto sulla trasparenza e la sicurezza, Federpharma tre protagonisti. Influenza alla fine, quasi 8 milioni di casi per l'Istituto Superiore di Sanità è stata una stagione forte per il secondo anno consecutivo. La riforma della legittima difesa varata giovedì dal Senato può essere un deterrente contro le rapine in farmacia. Ne è convinto Vittorio Contarina, presidente di Federpharma Roma, che da tempo denuncia come le farmacie siano divenute bersaglio della banda del buco. Il mio invito ai colleghi è sempre quello di non reagire di fronte a una minaccia, ha detto Contarina alla DN Cronos Salute, anche perché spesso davanti ci sono persone armate che non hanno nulla da perdere. E sulla possibilità che diventi più facile l'acquisto di armi da fuoco per la difesa personale, Contarina precisa, non credo ci sarà una corsa dei colleghi a comprare un'arma. E ascoltiamo l'intervento di Contarina ai microfoni di Federpharma Channel. Senz'altro sono contento di questa iniziativa perché qualora appunto un farmacista si dovesse trovare nella situazione di dover reagire, quindi insomma è una situazione di pericolo di dover reagire, almeno non rischia di dover, oltre a questo shock, magari anche di subire un processo penale che potrebbe rovinargli la carriera, potrebbe rovinargli la vita. Senz'altro io comunque invito comunque sempre a non reagire in farmacia perché comunque fare una colluttazione con una persona, un malvivente che non ha niente da perdere, non è mai una buona idea. E le rapine, lo so, a qualcosa possono anche non finire bene, può anche non esserci un lieto fine. Quindi invito sempre ad adottare altri sistemi per la difesa come quello che abbiamo adottato a Roma, progetto Roma Sicura che vede appunto tutta una serie di telecamere in diretto contatto con le forze dell'ordine. E qualora c'è una situazione di pericolo, noi premiamo un pulsante e nella centrale operativa delle forze dell'ordine appare in diretta l'immagine della rapina e intervengono subito le forze dell'ordine. Quindi comunque insomma io sono contento di questo provvedimento ma certamente spero che questo non comporti una corsa ad armarsi perché non è mai una buona idea secondo me. Peraltro con il progetto Roma Sicura le rapine a Roma sono diminuite del 40%. Andrea Garrone, segretario di Federpharma Piemonte, è intervenuto giovedì scorso al convegno del SUNIFAR. Garrone ha sottolineato l'importanza del lavoro portato a termine per avere una mappa numerica precisa delle farmacie rurali nel paese. L'indagine che ho realizzato, ha detto ai microfoni di Federpharma Channel, è stato un lavoro lungo e complesso. Il concetto fondamentale è che i dati non dicono tutto ma dicono tanto. Numeri che organizzati ci permettono di andare da qualsiasi interlocutore di qualsiasi livello per dire che la farmacia rurale, quella sussidiata in particolare, è l'unica infrastruttura del Servizio Sanitario Nazionale. Sulla stessa scia anche l'intervento di Annalisa Mandorino, vice segretario nazionale di cittadinanza attiva. Da tempo lavoriamo e collaboriamo con Federpharma e SUNIFAR per promuovere la strategia delle aree interne che tende a risolvere e a trovare risposte ai bisogni delle comunità di questi territori dove i servizi sono assenti e il disagio è quindi molto alto. E sentiamo le parole di Garrone ai nostri microfoni e a seguire l'intervista a Mandorino. Io ho fatto tutta un'indagine sulla distribuzione delle farmacie rurali in tutta Italia, è stato un lavoro molto lungo che ho fatto volontariamente. Il concetto fondamentale è che i dati non dicono tutto ma dicono tanto e da questi dati organizzati noi possiamo andare dagli interlocutori di qualunque livello, da quello istituzionale, politico, decisionale a quello invece sanitario per dire che la farmacia rurale, sussidiata in particolare, è l'unica infrastruttura del Servizio Sanitario nazionale e siccome è una concessione governativa, ovvero è lo Stato che attraverso le farmacie emana la salute, eroga la salute, queste non solo non vanno attaccate ma vanno difese, sviluppate e sostenute e questi dati lo confermano perché noi serviamo sul 60% del territorio nazionale la stessa popolazione, circa 9 milioni di quella che risiede nei 20 capoluoghi di regione. Noi da un po' di tempo stiamo lavorando con Federfarma e con Sunifar sui temi delle aree interne lavorando e collaborando per promuovere questa strategia delle aree interne che tende a risolvere, a trovare delle risposte e bisogni delle comunità di queste aree che sono comunità dove i servizi sono assenti, quindi c'è un livello di disagio molto alto e un livello di spopolamento sempre più grave e le comunità però sono in grado di fornire delle risposte efficaci a questi problemi se si opera in un'ottica di integrazione tra operatori sanitari, soprattutto farmacisti, visto che le farmacie sono ampiamente presenti su questi territori, altri operatori della sanità come i medici di medicina generale e anche i cittadini presenti per fare rete e superare attraverso le alleanze e la cooperazione i disagi di queste aree. Ora parliamo di privacy, un consumatore più coinvolto nella gestione dei dati e consapevole di come saranno utilizzati è il profilo dell'utente tracciato nel corso del convegno le nuove frontiere della protezione dei dati nell'attuale rivoluzione tecnologica internet delle cose, blockchain e e-privacy organizzato da Consumers Forum e insieme all'Università Roma 3. Nel corso dei lavori è stato approfondito il tema della relazione tra imprese e consumatori nell'era digitale e il ruolo delle principali authority interessate come il garante della privacy e la Gcom, con un focus in particolare al mondo del web. Tra i relatori è anche Bruno Foresti dell'ufficio legale di Federfarma, oltre che Licia Califano componente del collegio garante per la protezione dei dati personali e Antonio Nicita, commissario dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La stagione influenzale di quest'anno è stata piuttosto cattiva, quasi come quella da record del 2017-2018. Più di 7 milioni e mezzo di italiani si sono ammalati, ma il bilancio finale potrebbe arrivare a 8 milioni. Nell'ultima settimana infatti sono state colpite altre 179 mila persone. I più colpiti sono stati i bambini fino ai 14 anni. Secondo il rapporto Flu News, i casi gravi dall'inizio della sorveglianza sono stati 730, di cui 170 mortali. Per il secondo anno di seguito abbiamo avuto una stagione molto intensa, ma con virus diversi rispetto all'anno scorso, precisa Gianni Rezza, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità. Rezza però non è tanto sorpreso che anche questa stagione sia stata forte. In genere a un anno con un'epidemia consistente ne segue una meno intensa, sottolinea. Ma è pur vero che l'anno scorso la stagione più forte degli ultimi 15 anni c'era stata l'anomalia dei virus di tipo B che avevano dominato. Era quindi plausibile che quest'anno si avesse una stagione forte dominata dai ceppi di tipo A. Questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento è con la prossima edizione del Telegiornale. Dalla redazione, l'augurio di un buon weekend.